Al bilancio Mazzillo, presente in aula, gli lascio la parola per la relazione sulla manovra. Prego, Assessore, per 15 minuti ne ha facoltà. Grazie Presidente, grazie a tutti i consiglieri intervenuti. Un attimo solo, Assessore, mi sono scordato una comunicazione, comunico ai consiglieri che è stata depositata dall'Oref il parere sulla manovra, parere positivo, che è a disposizione dei consiglieri presso gli uffici. Perfetto, sì. Allora colgo l'occasione non solo di ringraziare i consiglieri presenti, ma anche di ringraziare gli uffici di Roma Capitale e anche l'organismo di revisione per averci permesso di trovarci oggi a discutere riguardo alla manovra consuntiva per l'anno 2016 di Roma Capitale. è un'occasione importante perché attraverso questa attività si è potuto porre un limite a quella che era stata la gestione che era iniziata con il commissario straordinario Tronca. L'amministrazione si è trovata a dover recuperare un tempo nel quale il commissario aveva operato ma aveva operato in un regime di straordinarietà con poteri legati soltanto alla pura gestione dell'ente e non in un'ottica strategico-politica come quella che oggi trova coinvolta questa giunta. La relazione all'organismo di revisione è giunto con parere favorevole, di cui ne siamo ovviamente felici. Nello stesso momento riteniamo che anche le raccomandazioni e le riserve sollevate siano assolutamente ascrivibili a indicazioni di natura assolutamente formale e attinente a quella che è la situazione ereditata anche da parte dell'attuale amministrazione. Per fare l'ultimo accenno riguardo alla relazione ci tenevo a precisare che le imperfezioni rilevate sono delle imperfezioni puramente di natura materiale e quindi sono state corrette prontamente presso il segretariato. Il riniconto di gestione di Roma Capitale per l'anno 2016, approvato dalla Giunta Capitolina lo scorso 31 marzo, ci restituisce la fotografia di un ente stabile che governa i suoi conti ed è in grado di fronteggiare anche le eventuali criticità e conferma, d'altra parte, l'impegno di questa amministrazione nel riportare la legalità, la trasparenza e la certezza nella gestione finanziaria. Il riniconto si chiude con un risultato di amministrazione di 4 miliardi 604 milioni 713 002 euro con un saldo disponibile di 726 milioni di euro, bensì al di sopra del massimo consentito della legge che sono 773 milioni, che rappresenta appunto il residuo disavanzo di riaccertamento straordinario ereditato dalla passata gestione a fronte del quale il Comune dovrà impegnare risorse pari a 28.4 milioni annui fino al 2045. Quindi questo disavanzo in realtà viene coperto con il riaccertamento straordinario che si chiude nel 2045. Abbiamo ottenuto quindi una performance migliore rispetto a quello che si poteva auspicare. Questo margine consentirà di destinare maggiori risorse alla salvaguardia degli equilibri di bilancio in sede di assestamento. Non solo. Nel saldo vengono ricompresi i maggiori accantonamenti per far fronte alle garanzie prestate per i punti verde qualità, parliamo di circa 70 milioni, alle riserve che sono state fatte nei confronti di Roma Metropolitana, in sede di contenzioso, per 77.4 milioni e all'esposizione debitoria di Farmacap nei confronti degli istituti di credito di circa 10 milioni di euro. Altra questione importante riguarda la conciliazione delle partite creditorie e debitorie, un tema assai dibattuto tra Roma Capitale e gli organismi partecipati. Il disallineamento è calcolato in circa 412.827.277 euro, ridotto di oltre la metà rispetto ai circa 900 milioni di euro registrati nel rendiconto 2015, approvato dal commissario straordinario Francesco Paolo Tronca. Il risultato è frutto di un lavoro di pulizia delle partite contabili, sia di quelle dell'amministrazione, sia di quelle delle società partecipate, agevolato quindi dal recente riconoscimento di un rilevante ammontare di debiti fuori bilancio. L'attuale amministrazione quindi proseguirà, con costanti e puntuali verifiche, le attività di raccordo al fine di pervenire alla chiarezza dei saldi di bilancio. Con il rendiconto di gestione viene dunque certificato l'avvio di un percorso di assestamento del gruppo Roma Capitale, che non riguarderà solo la pulizia dei bilanci delle partecipate, ma anche la loro futura riorganizzazione e il rinnovo dei contratti di servizio, con cui abbiamo intenzione di dare maggiore coerenza e certezza ai reciproci rapporti finanziari. Per quanto riguarda le entrate correnti, anche sul fronte delle entrate la situazione è pienamente sotto controllo. I residui attivi, ovvero i crediti accertati e non riscossi, vengono sterilizzati con la costituzione del fondo crediti di dubbia esigibilità, dove vengono accantonate somme calcolate secondo la legge sulla base delle capacità dell'ente di far pagare tributi e sanzioni rispetto a quello che è stato riscontrato nell'ultimo quinquennio. Lo standard di discussione rappresenta quindi un problema per tutte le amministrazioni pubbliche. Basti pensare che lo Stato recupera solo l'8 o il 9% dei crediti accertati e noi abbiamo intenzione di migliorare questo rapporto proprio grazie al piano delle entrate già previsto all'interno del DUP del prossimo triennio 2017-2019. Verrà infatti incrementata la qualità dell'accertamento e della riscossione. Grazie al potenziamento, ed è questa una peculiarità appunto di Roma Capitale, di disporre di una società strumentale in house, Equa Roma. Questo potenziamento quindi varrà su tale azienda e alla quale verranno affidati specifici obiettivi, sia per dirigenti sia per le strutture amministrative di Roma Capitale. Contestualmente si provvederà anche all'armonizzazione delle procedure che coinvolgerà tutte le società partecipate. Quindi se nel bilancio permane un'elevata quota di crediti, questo è certamente dovuto anche al riaccertamento straordinario dei residui che nel 2015 avrebbe dovuto risolvere la questione e che invece, pur con il via libera dei revisori del Campidoglio, non ha saputo intercettare la complessità della situazione di Roma Capitale. In ogni caso resta il fatto che l'amministrazione capitolina non spende le somme che accerta, ma solo quelle che può riscuotere sull'ammontare dei crediti accertati. Il piano delle entrate di Roma Capitale risente chiaramente del forte stato di crisi della finanza locale. Ricordiamo che le amministrazioni locali subiscono costantemente tagli ai trasferimenti e una forte riduzione di quella che è la leva fiscale degli enti locali. Un esempio è stata la cancellazione della tasi per la prima casa o le restrizioni sul limo. Pertanto iniziative fiscali devono essere rivolte prevalentemente al contrasto all'evasione. È opportuna quindi una nuova governance del sistema di riscossione, una cooperazione con l'amministrazione finanziaria. Parliamo quindi di quelle realtà che sono rappresentate dall'agenzia delle entrate del territorio. È opportuna quindi un'integrazione con le banche tesoriere e anche il potenziamento di Equaroma per quanto riguarda la riscossione degli eritrati ICI, IMU e contributi di soggiorno, comprese le contravvenzioni. Su questo fronte all'internalizzazione dell'Atari rappresenta un primo passo estremamente significativo in quest'ottica. Già dal secondo semestre 2017 la gestione sarà direttamente in capo a Roma Capitale. Questo comporterà importanti benefici sia sotto il profilo di un maggior controllo della base imponibile sia sotto l'aspetto della verifica e monitoraggio dei fenomeni di illusione e di evasione dell'Atari. Chiaramente non verrà trascurata la verifica della certezza e della tempestività degli incassi. Dal punto di vista immobiliare l'amministrazione intende rilanciare un ambizioso progetto di valorizzazione del patrimonio di Roma Capitale, continuando nell'opera di ricognizione degli immobili del Comune e di monitoraggio sui patrimoni delle società partecipate. La Conservatoria del Comune dispone, e questo è importante ricordarlo, di tutte le informazioni sui cespiti patrimoniali di proprietà di Roma Capitale, ma tali informazioni necessitano di essere integrate da elementi di natura amministrativa e gestionale che tuttora sono nella disponibilità di diversi soggetti, in particolare di fornitori esterni all'ente locale. Pertanto l'impulso politico della neo insediata amministrazione è stato fin da subito quello di verificare lo stato dell'arte relativo alla gestione dell'intero patrimonio immobiliare capitolino, affidato a soggetti esterni e all'amministrazione, e successivamente è stato avviato un progetto per il superamento delle criticità rilevate al fine di dotare, già a partire dall'inizio del secondo semestre 2017, il Dipartimento patrimonio di uno strumento idoneo a presidiare correttamente i processi di gestione, monitoraggio e valorizzazione del patrimonio immobiliare, con l'obiettivo di rendere l'ente finalmente autonomo in ognuna delle suddette fasi. In particolare si provvederà all'aggiornamento delle banche dati anche grazie ad alcuni accordi già siglati con fornitori di servizi tecnologici che consentiranno a breve l'implementazione e il potenziamento di alcuni sistemi in uso all'amministrazione, ricordo il famoso sistema REF2 ATER, per accrescere le performance amministrative e gestionali in ambito patrimoniale e pertanto migliorare la capacità di riscossione dell'ente non solo con riferimento alle concessioni e allocazioni, ma anche a tutte le entrate di natura patrimoniale che beneficeranno dell'ampliamento della base imponibile. Ricordo inoltre che sono di prossima presentazione i nuovi regolamenti per la gestione del patrimonio capitolino, ci riferiamo quindi al regolamento sulle concessioni del patrimonio indisponibile che servirà per restituire trasparenza e legalità alla gestione dei beni del patrimonio indisponibile e demaniale, con un coinvolgimento maggiore da parte dei municipi che verranno potenziati nella dotazione di personale e di una destinazione di una quota di immobili per fini istituzionali, al fine di razionalizzare tutti i fitti passivi anche di competenza delle strutture territoriali. Per quanto riguarda anche gli impianti sportivi è in corso di presentazione il regolamento che permette una classificazione sulla base della loro redditività e sulla loro gestione, lasciando quindi all'amministrazione capitolina la decisione delle discipline sportive da praticare negli impianti di sua proprietà. Anche il fronte dei beni sottratti alla criminalità rappresentano un altro punto di interesse di questa amministrazione, sia per il riverbero sociale ma anche per l'utilità che tali immobili possono rivestire nel campo della socialità. Sia per fini quindi istituzionali, come dicevamo prima per la riduzione dei fitti, sia per i fini sociali e abitativi, per venire incontro a quelle che sono le criticità più forti della città in tema di fragilità. L'amministrazione capitolina ha creato un gruppo di lavoro incaricato di studiare le soluzioni organizzative per affrontare le criticità esistenti, quindi il potenziamento di Aguaroma e l'internalizzazione della riscossione produrranno una ricognizione esatta e puntuale del patrimonio capitolino dato in locazione, grazie a una reingegnerizzazione del sistema informatico e alla creazione di una banca dati integrata e condivisa con altri soggetti e operanti all'interno del gruppo Roma Capitale. L'incrocio tra banche dati porterà a un miglioramento dell'attività di riscossione, cui seguirà un adeguamento dei canoni di locazione ai valori di mercato. Quindi è allo studio anche l'ipotesi di destinare una quota di patrimonio disponibile non funzionale all'amministrazione, sia per caratteristiche tecniche e per la loro effettiva dislocazione territoriale, da mettere a reddito attraverso meccanismi di affidamento di gestione patrimoniale avvalendosi di strumenti di valorizzazione imbubiliare come fondi ad apporto pubblico. I contratti di servizio. Con riferimento ai contratti di servizio a breve, l'Assemblea Capitolina sarà chiamata a proporre nuove linee guida per la redazione di contratti di servizio, sia delle società strumentali che di quelle esercenti servizi pubblici di interesse economico generale. Al fine, non solo di rendere omogeni gli schemi di contratti, ma anche di favorire la trasparenza e il controllo e rendere realmente responsabili gli affidatari dei servizi per la gestione dei medesimi. In particolare, verranno riviste le percentuali massime di acconto sui corrispettivi mensili, che in alcuni casi, ricordo, arrivano al 97%. In attesa delle rindicontazioni trimestrali, verrà introdotta la clausola dello Ius Variandi, grazie alla quale l'amministrazione, a fronte dell'ampliamento della durata degli affidamenti, si intende appunto portare l'annualità su un arco temporale più lungo, potrà riservarsi ragione di eventuali aggiornamenti normativi o modifiche contingenti e di contesto, di intervenire sulle condizioni contrattuali in qualsiasi momento, al fine di garantire l'economicità, l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa di Roma Capitale. Inoltre, verranno previsti comitati paritetici di vigilanza, con funzioni di verifica dei livelli di servizi erogati, che, se non in linea, saranno soggetti all'applicazione di penali che gli stessi comitati potranno proporre. Questa sperimentazione, in realtà, è già partita proprio con l'azienda del Comune di Roma, che si occupa della gestione dei rifiuti dell'AMA. Rispetto ai vincoli di finanza pubblica, l'ente è ampliamente rispettato dei vincoli di finanza pubblica. In particolare, la differenza tra entrate e spese finali evidenzia a rendiconto un margine finanziario, che viene definito dai tecnici overshooting, di oltre 600 milioni di euro. Tale risultato, seppur positivo, denota una criticità in termini di capacità di impegno da parte delle strutture, su cui però hanno sicuramente influito i sei mesi di gestione commissariale del Comune nel corso del 2016 e le scelte adottate in sede di programmazione dal Commissario Prefettizio, che hanno di fatto previsto una contrazione, se non ingiustificata, quantomeno eccessiva, delle spese strutturali, imponendo a questa aggiunta l'adozione in via d'urgenza di tre variazioni di bilancio, soltanto per consentire alle strutture di Roma Capitale l'assolvimento delle funzioni e l'erogazione dei servizi indispensabili. Per quanto concerne il piano di equilibrio, possiamo tranquillamente affermare che esso è stato ampiamente rispettato ed il tetto di spesa dei 4,021 miliardi è ampiamente al di sotto ed è quantificato in 3,8 miliardi. Questo rappresenta il tetto di spesa utilizzato per le 81 macrovoci previste nel piano di ammortamento. Per quanto attiene ai debiti fuori bilancio, seppur ridotti, a seguito dello sforzo profuso per il riconoscimento di circa 100 milioni di debiti fuori bilancio a fine 2016, anche grazie alla collaborazione delle opposizioni che ringrazio, rimangono numerosi i debiti per importi cospicui che si sono accumulati nel corso delle precedenti gestioni. Quindi ricordiamo che è un tema che si trascina da tempo. L'obiettivo di questa amministrazione è la tempestiva approvazione del bilancio 2017-2019, ne è quindi la principale testimonianza, ovvero quella di mettere i dipartimenti e i municipi nelle condizioni migliori per programmare e per operare, limitando il ricorso allo strumento delle somme urgenze, di cui si era abusato in passato. Inoltre, l'intenzione di avvelersi a pieno della centrale unica di committenza, anche al fine di approfittare delle sinergie con le società partecipate e nonché di fare ampio ricorso allo strumento degli accordi quadro, rappresenta una soluzione interessante, al fine di avere a disposizione un meccanismo snello e tempestivo per dare seguito a tutte le esigenze delle strutture capitoline centrali e periferiche, nonché degli organismi partecipati. Gli accantonamenti, come anche comunicato dall'Avvocatura, sono congrui e consentiranno all'amministrazione di affrontare le questioni di maggior criticità ed urgenza, che dovessero venire a sostanziarsi nel corso dell'esercizio. Inoltre, in ragione di una maggiore prudenza, il rendiconto ha rappresentato l'occasione per verificare, anche grazie al determinante ruolo dell'Avvocatura capitolina, la sussistenza degli accantonamenti, nonché la loro integrazione, ovvero l'appostamento di ulteriori somme al fine di consentire la sostenibilità dei debiti e dei rischi qualora da potenziali si traducano in reali. Ricordo quindi che gli accantonamenti al rendiconto per quanto riguarda le passività potenziali, nel rendiconto 2015 sono stati di 714.923.872, nel bilancio 2016 di 141.018.000 ed utilizzi sempre nel 2016 di 171.434.036. Sono stati invece cancellati i rischi per insussistenza circa 66.231.365 euro di passività e sono stati ulteriormente accantonati al rendiconto 2016 168.266.730 euro. Ricordo che di questi accantonamenti abbiamo quindi un fondo contenzioso che è assommato a circa 471 milioni, un fondo per le garanzie fiduissorie pari a 161 milioni, un fondo per perdite su partecipazioni di 18 milioni ed altre passività per 130 milioni, di cui 112 riguardano i debiti fuori bilancio. Riguardo questi aspetti non può essere quindi trascurata la gestione commissariale che in effetti ha dei riflessi anche sulla gestione dell'ente, ma nei termini che adesso mi accingo a specificare. Quindi in merito a tali gestioni pregresse occorre specificare che la gestione del mostruoso debito del Comune di Roma, accumulato fino al 2008, spetta al Governo ed in particolare ad un commissario dotato di specifici poteri. Se sussistono pertanto problemi nell'attuazione del piano di riento previsto dalla legge, sono di esclusiva responsabilità della gestione commissariale, dunque non degli uffici del Campidoglio, che hanno sempre assicurato la massima collaborazione nell'attività di ricognizione della massa attiva e passiva. Ricordo infatti che mutuando quelle che sono le regole commissariali per quanto riguarda gli enti locali deficitarie, Roma Capitale si trova attraverso le proprie strutture a dover operare contemporaneamente su due fronti, sia quello della gestione commissariale che di quella ordinaria, con il personale di cui dispone. Quello che preoccupa l'attuale amministrazione capitolina è l'enorme mole di interessi che pesa per circa la metà del debito complessivo, parliamo quindi del debito finanziario. Quest'ultimo ricordo è pagato per il 40% dai cittadini romani con l'addizionale IRPEF più alta d'Italia. Rinnoviamo quindi anche in tale sede l'invito al Governo a mettere in campo tutte le misure necessarie al fine di poter rinegoziare i mutui più onerosi, che hanno un costo molto più elevato rispetto agli attuali valori di mercato, considerato anche il fatto che la maggior parte di tali mutui sono in capo alla Cassa Depositi e Prestiti, società controllata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Con riferimento invece al ruolo di agente contabile esterno svolto da alcune società del gruppo Roma Capitale, possiamo affermare quanto segue. L'ufficio degli agenti contabili esterni della riscossione, ovvero gli organismi esterni partecipati dalla terza direzione rendiconti, ha richiesto a tutte le strutture capitoline l'aggiornamento dell'anagrafe dei suddetti agenti, sia di diritto che di fatto, al fine della trasmissione alla Corte dei Conti. Tale trasmissione si è appunto verificata ed è stata eseguita il 30 dicembre del 2016. In questo caso parliamo di 7 strutture capitoline e di 11 società. Sempre nel corso del 2016, ai fini della resa dei conti giudiziali, l'ufficio ha definito un prototipo del modello 2021, il famoso conto giudiziale e i relativi allegati riferiti ad esempio a Zetema Progetto Cultura per l'annualità 2015. Tale modello, quindi questo prototipo proposto, comprende al suo interno anche una relazione sul processo di riscossione e versamento delle entrate ed è stato condiviso in maniera informale con la Corte dei Conti rispettiva, territorialmente competente. È stata quindi predisposta ed è tuttora in fase di aggiornamento, alla luce del nuovo Codice di Giustizia Contabile, la circolare della ragioneria generale per definire attività tempistiche e strutture coinvolte per la resa dei conti giudiziali. considerando che rientrano tra gli agenti contabili esterni delle riscossioni anche le società partecipate, nella circolare del 15 dicembre 2015 della ragioneria è stato definito che all'interno dei contratti di affidamento dei servizi sia contenuta una specifica sezione dedicata agli agenti contabili da condividere proprio con l'ufficio agice, al fine di definire già a livello contrattuale gli addempimenti richiesti in materia. È stato quindi concordato con gli uffici, in particolare con la ragioneria generale e con il Dipartimento risorse economiche, un piano di azione che verrà condiviso nelle prossime settimane con la Corte dei Conti, anche al fine di definire un nuovo calendario per la resa dei conti giudiziali dell'anno 2016. Con questi elementi spero di aver dato una descrizione esaustiva dell'attività svolta proprio in sede di riaccertamento e ridefinizione, riallocazione e rideterminazione di tutte le poste contabili legate all'attività gestionale economico e patrimoniale dell'ente per l'anno 2016 e rinnovo sempre il ringraziamento alle strutture dell'amministrazione che hanno fortemente lavorato. Ricordo sempre per l'effetto di una situazione di impasse dovuta sia alla gestione straordinaria del prefettizia sia di un avvicendamento in termini amministrativi con una campagna elettorale in ballo e soprattutto con situazioni legate alla tesoreria che non hanno certamente, la tesoreria in questo momento è, siamo in proroga e stiamo definendo un nuovo bando dato che l'ultimo è andato deserto e quindi anche l'attività con il tesoriere è stata assolutamente più importante e anche richiesto maggior impegno, quindi ringrazio anche gli uffici per questo, per aver sopperito anche a tante carenze che si sono venute a riscontrare soprattutto in tema di sistemi informativi sui quali appunto come già avevo detto stiamo lavorando e ritengo che la disponibilità e le attività che si stanno svolgendo oggi vanno assolutamente nella direzione di risolvere molte di quelle che sono le criticità sollevate anche in ambito di relazione da parte dell'organismo di revisione. Grazie.